L'Associazione Culturale Amici di Raffaele Caserta con l'Osservatorio per la Sicurezza Stradale della Statale 106, con la partecipazione di Codici Centro per i Diritti del Cittadino con il patrocinio del Comune di Melito Portosalvo presentano la prima giornata per la sicurezza stradale in memoria delle vittime della strada. Domenica 8 giugno 2014 con inizio alle ore 16 lungomare dei mille Melito Portosalvo. Per la gioia dei bambini presenti alla manifestazione il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco insieme all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria daranno inizio a un percorso in miniatura che simula l'attività del corpo denominata Pompieropoli. Alla fine della manifestazione Fabio Caserta consegnerà un regalo a tutti i bambini presenti all'evento. Moderatore della manifestazione Giuseppe Toscano, giornalista della Gazzetta del Sud. Televisione ufficiale Telemerito, canale 625 del digitale terrestre. Sicurezza stradale, mettiamoci sulla buona strada.